Ben ritrovati, ben ritrovati, altra puntata infrasettimanale di A Tutto Enbo, l'edizione 2023, dal canale 96, ben ritrovati da Stefano Ballerini, Paolo Caselli che è in redazione, Enrico Milano che ci segue dalla cabina di regia, i campionati hanno emessi i loro verdetti. Allora, in Serie A 1, maschile Fasano è campione d'Italia, battuta in tre partite la Raimund Sassari, mentre per quello che poi vedremo anche per la determinazione dello scudetto al femminile, andiamo a scoprire che lo scudetto 2023 se lo aggiudica la Giomi Salerno, batte Erice 35 a 30 in gara tre e dunque il nono scudetto per il club campano. E allora andiamo a leggere un po' di note di questo affollatissimo ultimo turno della stagione regolare in A 1 perché vogliamo raccontarvi come si è arrivati al titolo di campione d'Italia. E allora intanto vado a fare una cosa perché poi devo anche agevolare Enrico Milano che vi deve dare tutto quello che è il consuntivo. Intanto ecco le immagini della partita decisiva, io sto traslando l'intera produzione di A Tutto Handball di questo martedì 23 maggio. Lo sto mandando in redazione in modo che Enrico Milano poi possa scandagliare e mandarvi tutto quello che la fig.it ha immesso dentro le note delle partite di finali e allora facciamo che così e così glielo giriamo. Eccolo qua, allora andiamo, possiamo assolutamente partire. Sidea Gruppo Fasano è dunque campione d'Italia 2022-2023 per la quarta volta dopo quelle del 2014-16-18. La formazione pugliese conquista lo scudetto battendo in una entusiasmante gara 3 di finale. Sassari con il punteggio di 35-32 primo tempo tiratissimo 15-14. La Fasano della palla a mano in una serata animata da un pubblico biancazzurro davvero dal tipo straordinario. Ritrova il tricolore a 5 anni di distanza dall'ultima volta regalando alla Puglia il 14esimo campionato negli ultimi 20 anni. E allora, primo titolo da allenatore per l'ex portiere Diego Siena, Vito Fovio, che saluto e che ringrazio. E dunque lo scudetto rimane, torna in terra di Puglia 34-35-32. Si era cominciati da Sassari, Fasano 32-34-01. Poi Fasano aveva battuto Sassari 32-26. Nella terza partita Fasano-Sassari 35-32. Ovviamente vi sorvolo. Bastano le immagini, il trionfo, il popolo pugliese, la gioia. Se qualcuno ha qualche giocatore in particolar modo da seguire, da andare a controllare il tabellino sul nostro articolo testuale di questo fine stagione, ci sono tutti i tasti download, basta pigiarne uno e si aprono tutti i tabellini di questa finale. E dunque va bene così. Facciamo i complimenti assolutamente a Fasano. Allora, andiamo a vedere anche quelli che sono i risultati del campionato femminile, perché non vogliamo dimenticarci assolutamente di niente e di nessuno. La Giomi Salerno è il campione d'Italia. Il club campano ha battuto 35-30, 15-12 il primo tempo. Erice in gara 3 della finale scudetto della Serie A1, giocata al Palumbo. Nono titolo tricolore nella storia del club dal 2010 ad oggi. Praticamente un dominio, un palmarès aperto con la Coppa Italia dell'anno prima e che arriva a contare 22 trofei tra il campionato Coppa Italia e Super Coppa. E allora andiamo a vedere quelli che sono i tre risultati. Erice, Salerno 29-23, gara 1-1 per Erice. Salerno pareggia vincendo un appassionante. Gara 2, 24-23. Salerno batte Erice 35-30 e si ricuce lo scudetto sulle maglie. Per cui assolutamente sì. Purtroppo dai titoli di apertura di questa puntata c'è anche un titolo in negativo. Tusce Prato che retrocede in Serie A2. Ha perso il match con Ferrara. Tusce che aveva battuto Ferrara in gara 1 portandosi 1-0 e lo sperando 41-35. In gara 2 Ferrara pareggiava i conti 34-28 e poi batteva in gara 3 lo spareggio. Tusce Prato 28-22. E anche qui ovviamente volete andare a vedere tabellini, marcatore e quant'altro? Il tasto download lo pigiate e vi aprite tutto quello che serve. C'è un articolo da fighe.it che ringrazia l'amico Matteo Aldomonte, sempre, che riguarda le convocazioni e la partenza delle nazionali di Beach. Handball che entrano nel rush finale. Si parte tra, voglio dire, domani a Nazareth in Portogallo. Le due selezioni azzurri sono già partite alla volta di Malaga dove saranno impegnate fino al prossimo 23 maggio, giorno del trasferimento, in terra lusitana per i prossimi europei. Allora, andiamo a vederle le due compagini convocate dai tecnici Pasquale Maione e Dan Lara Cobos. Per quanto riguarda la nazionale maschile, i portieri sono Ermones, Bozzano e Pavani, ex Siena, che gioca nella formazione del Sainz in Francia. Poi Arena, Fondi, Dieghez, Dossobuono, Benini, gioca a Monaco, Sedda del Ferrarin, Andreotta, Campus Italia, Moser del Pressano, De Giorgio, Conversano, Munda, Genea Lanzara, Mitterunzer del Brixton, Notarangelo, Fasano, Beltrami, Carpi, Gregorio Mazzanti del Romagna, Filippo Angiolini di Fasano. E dunque, vediamo invece la convocazione al femminile. Le portiere sono Bertolino Cassano Magnago e Ferrari di Ferrara, gioco di parole. Poi Cobilizza, Monte Carlo, Matos, Salerno, Lucarini e Stella Maccari di Grosseto, Martina Mazzieri, Dossobuono, Tisato, Uni Atlantico per Eda, gioca in Spagna, Vegni, Brixton sul Tirol, Dalla Costa, Giovi Salerno, Diogap, Cellini Padova, Carel Diogap, le due sorelle, tutte e due, del Cellini Padova. Vediamo i gironi dell'Europeo 2023 al maschile, girone A, Croazia, Norvegia, Polonia, Paesi Bassi, girone B, Ungheria, Francia, Portogallo, Italia, gruppo C, Spagna, Ucraina, Svezia e Grecia, gruppo D, Danimarca, Germania, Romania e Svizzera, i gironi al femminile, gruppo A, Germania, Danimarca, Francia, Italia, gruppo B, Paesi Bassi, Ucraina, Portogallo, Macedonia, gruppo C, Ungheria, Grecia, Norvegia, Slovacchia, gruppo D, Spagna, Polonia, Croazia e Romania. E allora, accantonate le notizie della pallamano, le finali, della convocazione delle nazionali di B-Chenball, torniamo e ci tuffiamo nelle ultime puntate dei campionati toscani, la Serie B regionale, dove è finita la stagione del Tavarnelle, si è chiusa con una vittoria in trasferta contro la squadra amica gemellata della Torre di Pontassieve, Tavarnelle vince il 31 a 28, una lunga avventura per i nostri ragazzi, come ha mandato il presidente Perattone l'ultimo comunicato stampa, tutti da encomiare per l'impegno, serietà e continuità di ottimo lavoro, un lavoro che ha dato progressivamente i suoi frutti nella prospettiva di crescita e inserimento nella prima squadra, che si è salvata. Da ringraziare i tecnici, qui c'è un piccolissimo errore, Provvedi e Barbarito, tutti i dirigenti, accompagnatori, genitori, tifosi che hanno incitato sempre i nostri ragazzi, insomma grazie a tutti, adesso lavoriamo insieme per pensare al nostro prossimo futuro, il Tavarnelle tornerà a giocare con la prima squadra nel nuovo palazzetto nella zona sportiva di Tavarnelle. Allora l'ultimo risultato, undicesima giornata, Olympic Master Carrara 35-29, Spezia-Mugello vince lo Spezia, Grosseto-Prato 36-28, La Torre-Tavarnelle 28-31, Arete-Bastia-Umbra-Monte Carlo 19-25, Follonica-Medicia-Poggio-Cagliano 36-28, La classifica Follonica 38, a pari punti, Col-Mugello-Spezia 31, Grosseto 27, Olympic Master 26, Medicia 25, Tavarnelle 21, Prato 18, Carrara 14, Monte Carlo 13, Arete 4, Libertas-Lautore alle prese con l'ugiosissimo brutto da ricordare, meno 3 e le multe, ci sono le foto che mi ha inviato Alessandro Perattoni, parimenti, le quattro righe a corredo dell'ultimo turno del campionato Under 15, finisce nel miglior dei modi anche il campionato Under 15 per la Tavarnelle che spugna il campo di La Spezia, vittoria stranettissima, 9 a 30 per Tavarnelle, bella partita, netto miglioramento per tutti i ragazzi messi in campo dal duo tecnico Calosi-Panti, ringraziamento particolare al dirigente Bartarelli che ha accompagnato per tutto l'anno la squadra, sempre attento ai minimi particolari, grande applauso ai genitori di questo bellissimo gruppo, complimenti a tutti, la seconda giornata, seconda di ritorno, Spezia-Tavarnelle, 9 a 30, Ambra, Follonica 38 a 20, la classifica, la Torre 12, Ambra e Tavarnelle 10, Follonica 1, Ginnastica Spezia. Zero punti, allora, questo è il nostro recap di martedì 23 maggio 2023, i campionati maggiori si chiudono, si sono chiusi anche quelli al giovanile, tutte le notizie che arriveranno da chi ce le vorrà mandare, ma è visto che tutti preferiscono scrivere post contro post su Facebook, io non sono ad uso ad andare su Facebook, per cui aspetto Alessandro Perattone, la possibilità di fare con lui una chiacchierata, per chiudere la stagione della palla a mano, dallo studio del canale 96, nella replica del 187, grazie a Paolo Caselli, grazie a Enrico Milano per tutto il lavoro fatto per tutta questa annata, per la palla a mano è tutto, Stefano Ballerini vi saluta e vi augura buon proseguimento, viva l'handball, buon handball a tutti, la nina torna alla nostra produzione del canale principale, la nostra medaglia del canale 96.